musica 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 dammi nel segnale il segnale dovrebbe essere questo quindi parcheggiamo l'auto qua ooooh parcheggiamo l'auto qua questo paio di coglioni spira l'auto e andremo a fare sul serio ma nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda nessuno fa la guardia a sto cazzo di posto di merda forza vai rocky vai così vai dagli un destro e vai giù sinistro e porta col destro e sta vincendo il recinto e sta vincendo il recinto rocky non gliela dar vinta non gliela dar vinta sei tutti noi sei tutti noi vai rocky vai fagliela vedere vabbè rocky infaffanculo no attenzione niente no ma che cos'è perché guarda che roba ma che cos'è ma ma cos'è ma ragazzi vediamo che nessuno sta toccando la tastiera nel mouse di niente guarda che roba ma ancora qua stiamo tasti deficienti ma sul serio albè siamo totalmente in blackout abbiamo finito la nostra corrente bene abbiamo tutta la fabbrica spenta tutto fermo raga tutto fermo per quale motivo mamma mia ma che casino c'è ma che cas- ma stiamo scherzando ma guarda qua sono miliardi aveva ragione il gioco dai ho toccato di sì e puoi entrare oh giochiamo a pietra carte ma sulla porta oh ma forse era meglio entrare in casa prima ma stanno giocando che figata cazzo gli ho dato via gli orsacchiotti oh no forse ce li ho vediamo no ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ok dagli un orsacchiotto che è un bimbo cazzo beh andiamo sì ma no non lasciarlo fuori scusate dove cazzo sei vieni dentro visto che ti posso controllare no 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 che cazzo fai cosa fai corri avanti indietro no aspetta ah può giocare cosa sta roba ah scrive sul muro quei gesetti no bellissimo dove cazzo gli ho trovati i gesetti scusa vabbè Emilia adesso ci guardiamo eh intanto ci sono 18 gradi come cazzo fai non sentirti poco bene cacchio hai fatto ho dormito con lo nudo eh allora perchè non eri qui per proteggermi chi? Emilia ma se non l'hai manco cagata comunque vabbè dobbiamo riparare anche le porte cavolo nooo vabbè ma come cacchio fai qua e l'ultimo step è un casino ma come cazzarole fai un po' che cazzo fai da un controllo ma come cazzo fai da cazzo fai da